Continuiamo adesso con la testimonianza che avevamo anche annunciato all'inizio, quella di Veronica, un'esperienza che lei ha vissuto negli ultimi mesi con alcune donne cosiddette cristiane, tra virgolette. Veronica e le due donne, caro mio. Che erano, tra virgolette, sorelle che lei ha incontrato. Lei ci racconterà adesso i dettagli e dove. Quante virgolette? Tanti, tante virgolette. Tante virgolette. Ma in questa testimonianza la pubblichiamo volentieri perché qui ci insegna, diciamo, cioè uno saggio impara dei suoi errori, ma è il più saggio. Cioè per imparare dei suoi errori a volte ci vogliono vent'anni, dieci anni. Veronica quanto ci ha messo qui? Otto mesi? Quanto ci ha messo un anno? Sì, sì, come otto mesi, dieci mesi. Ha pregato otto, dieci mesi della sua vita per imparare questa lezione. Ma voi fratelli potete impararlo qui in pochi minuti. In questi pochi minuti, sì. Se prestate un po' di attenzione. Qui mostro come lavora il diavolo, va bene? Sì. Veronica? Per capire la testimonianza, perché abbiamo dovuto aggiustare un po' di cose. Inizialmente le abbiamo detto va bene fare i nomi, però poi abbiamo deciso di non mettere i nomi di queste due donne. Quindi sentirete sempre il bip, bip. E quali sono i nomi di queste due profetesse, tra virgolette, che vogliamo pubblicare questo perché Veronica ha detto che queste donne vanno in giro visitando altri credenti. Altri credenti. E quindi li stanno inganando. E anche lei vorrebbe avvisare e annunciare attenzione a queste donne. Sì, attenzione, che sono andata a bussare alla porta di Veronica e l'hanno contattata via cosa? Internet, no? Internet, credo, sì. Via cos'è? Facebook, cos'è che hanno usato? YouTube? Non so, non so. Quello qua, attenzione. E insomma, sono due donne intelligentissime, parlano benissimo, profetesse, di grande presenza. Insomma, sono un po' il gatto alla volpe, insomma. Sai Pinocchio, il gatto alla volpe? Sono così. E l'hanno ingannata per otto mesi. Otto mesi e, caro mio, avanti Angeluna. Sì, e altro... Il problema principale, voglio l'ultimo PS, è Veronica non ci ha detto niente, ha tenuto tutto segreto. E una sorella, una sorella, va bene, tutti gli effetti, per otto mesi tutto segretato. Non ci ha detto niente. E questo, secondo me, è stato il primo sbaglio. Che la Bibbia parla che senza consiglio non vinci nessuna guerra. Con il saggio consiglio vincerei la guerra. E così Veronica ha perso una decina di mesi perché non si è consigliato con la sua chiesa. Con i suoi anziani, la sua chiesa, i suoi fratelli. Avanti, Angel. Quindi, a parte quei nomi che sono replaced with BIP. A parte i nomi che sono stati cancellati con il nostro BIP. Sentirete anche il nome di Stefano, che è il marito di Veronica, che è un uomo di Dio, lo conosciamo. Dio lo benedica. E anche il nome di Enrica, che è una sorella in Cristo, una brava sorella, la conosciamo anche lei. Dio la benedica. E poi c'è anche il nome di Giulia, che è la figlia di Veronica, la figlia di 13 anni. Anche lei, benedizione di Dio. Quindi questi non li abbiamo tolti, però solo quelli problematici. Glorie a Dio. Vai, Angela, nel nome di Gesù. Ecco la storia di Veronica, ascoltatela bene. Allacciate le cinture e cerchiamo di imparare perché il saggio più saggio impara dagli errori degli altri. Oggi impareremo dagli errori di Veronica. Dio la benedica. Ti amiamo, Veronica. Amen. Grazie per scrivere. Amen. Buongiorno, carissimi fratelli. Vi racconto in breve questa esperienza vissuta in prima persona con la mia famiglia ed insieme a noi anche la sorella Enrica. Allora, ho conosciuto la c***a nel dicembre del 2020 e la c***a che conobi successivamente. Con la c***a iniziai una conoscenza tramite YouTube, sentendola poi per telefono e successivamente di persona. Il modo di pregare di c***a e la forte conoscenza della parola ci hanno fin da subito coinvolto ed interessato, accogliendo sempre buoni consigli, conforto e liberazione. Le prime avvisaglie sul fatto che qualcosa non quadrasse l'abbiamo ricevuto con il gruppetto di preghiera del mercoledì sera. Erano troppo devote e poco a Gesù ed ella riceveva donazioni costantemente inviando messaggi ai fratelli per ricordare loro di donare. Noi le abbiamo fatto presente il nostro dissenso anche, ad esempio, sulla fine dei tempi, che è completamente fuori dalla verità. Infatti dice che inizieranno a rapire i primi bambini e poi avverrà gradualmente nelle altre persone. Ad agosto del 2021 le abbiamo incontrate di persona e poi a settembre ospitata a casa nostra. In quest'ultimo frangente ha cercato di allontanarmi da Stefano, procedendo sempre in maniera subdola, utilizzando la parola di Dio e colloqui individuali a volte con me e a volte con Stefano. Abbiamo poi capito che chiaro era il tentativo di screditare entrambi, fino a cercare di convincerci che fosse utile che io dovesse abbandonare il tetto coniugale e i miei figli, per un periodo di preghiera presso la sua abitazione e che questo avrebbe agevolato anche Stefano. Io ovviamente rifiutai in accordo con Stefano. In quell'incontro di settembre ci salutammo con la comunicazione dal *** che, chiamata dal Signore, sarebbe partita da sola in missione per una località top secret. Non vi nego che l'esperienza comunque ha avuto anche delle cose positive, tipo evangelizzare per strada, ad esempio. Dopo la sua partenza, quindi per la missione, lasciò a *** l'onere di tenere vivi i contatti con i fratelli di un gruppo Whatsapp chiamato ***. Noi compresi in questo gruppo, che però da lì a breve lo lasciamo. Durante il suo viaggio missionario registrò un audio video, a cui impartiva esortazioni, profetizzando anche doni a me e ad altri del gruppo. Il Signore aveva dato a lei il messaggio distribuendo doni a destra manca. Visto che io non ero più presente nel gruppo, *** mi contattò personalmente, dopo circa otto mesi che non ci sentivamo più. Raggiunse anche che io e lei avremmo dovuto avere una missione insieme detta dal Signore al ***. Improvvisamente sabato pomeriggio 18 giugno del 2022, con solo tre ore di previso, *** mi disse che stava arrivando. Alle 18 si presentarono *** e anche *** che noi credevamo ancora in questa missione segreta e con loro anche le figlie di ***. Fin da subito notammo visi e comportamenti strani. Ma la gioia di rivedere sorella a cui ci eravamo comunque sinceramente affezionati fu superiore a ciò che avevamo vissuto e ormai dimenticato. Giustamente qualche fratello mi disse, ma come avete fatto a dare ancora spago? Eh sì, hanno ragione, siamo stati deboli in questo, lo ammetto. Difatti le ospitammo anche perché avevano due bimbe piccole con loro. Il lunedì capitò di tutto. Prima cosa non pregavano più, a differenza di prima, infatti io le chiesi una preghiera che non venne mai fatta. Poi mi chiesero soldi fingendo di trovarsi in condizioni economiche precarie. Poi che *** è l'unico profeta, vivente, sente il Signore parlare al suo orecchio. Al che le dissi che non era vero, che anche fratello Giuseppe e Gesù le parla. Maria rispose che non era possibile e che al massimo parlava al suo cuore. Poi che è l'unica discendente di Gesù, il quale sostiene non sia neanche nato dallo Spirito Santo, ma che sia nato proprio da Maria e Giuseppe. Altrimenti come potremmo noi essere fratelli di Gesù? E che come lui aveva il potere di cambiare il tempo e di fermarlo, calmare le tempeste, comandare gli animali che al suo passaggio addirittura si inchinavano la nuova regina in Cristo. Detto da *** che la donna che fugge nel deserto non si riferisce alla sposa di Cristo, ma a lei e che il bambino che cita Apocalisse lo partorirà lei e sarà l'Emmanuelle che gli ebrei stanno aspettando e lo conceperà con un massone. Ovviamente in tutto questo cercavano una mia approvazione, che io confermassi quanto mi stavano dicendo, facendomi addirittura ragionare anche con le scritture, ma non ho mai avuto un cedimento da parte mia. Anzi, i redisti si avevano visto il film Il Codice da Vinci. Non riuscendo a convincermi in alcun modo, anzi, all'ascoltare tutto questo avevo un malessere fisico, avevo molta nausea. E quindi continuarono nella loro opera di distruzione della nostra famiglia screditando pesantemente Stefano, traditore verso di me, corruttore, massone, eccetera. E cercando di convincermi che per il bene mio e di miei figli avrei dovuto abbandonarlo. Lavoravano bene anche sulla psiche di mia figlia Giorgia, convincendola che la sua sofferenza provenisse dalla cattiveria di Stefano. E quando lunedì sera la tensione arrivò a mille, fra urle e provocazioni, io caddi adagiandomi sul pavimento senza farmi male. Non certamente ha dei doni, ma ha subito misteriosamente degli attacchi satanici, a nostro avviso, che nella sua assenza l'hanno invasa nello spirito e scaltra, bisognosa di denaro e alla ricerca costante del male altrui. Usa la parola per condizionare le menti e certamente chi non è fortemente strutturato in Cristo farà fatica a non cadere nelle sue trame maligne. Ha problemi forti di stima, personale, è dichiaratamente lesbica, l'ha confessato nell'ultimo nostro incontro, quest'ultimo di giugno, e sospettiamo a questo punto che conviva con lui. Chiama a sola perché in qualità di unico profeta di Cristo, dice lei, mi ha riportato alla vita. Io personalmente ho chiesto perdono a Dio, primo per non essere stata più forte ed operativa nella parola, e per aver dubitato anche solo per un secondo di mio marito, perché mi avevano messo l'evidenza davanti coi fatti, dicendomi che lui mi tradiva e che mi stava nascondendo qualcosa di molto importante nella massoneria. Ma non ho avuto nessun dubbio su Gesù, il mio cuore sapeva che non era quella la verità. Provai a dissuaderle da quelle menzogne, ma lui mi diceva che mi serviva solo tempo per arrivare a capire che la sua era l'unica verità. Ovviamente mi accorsi che davanti avevo il nemico, Matteo 24, 4, 5 e Matteo 24, 11, 12. Ho proprio appreso che stavo vivendo questo. Il mio unico pensiero fu quello di avvisare subito mio marito e la sorella Enrica, la quale per la prima volta veniva a casa nostra per iniziare un lavoro con me per Gesù. Mi dispiace che abbiano vissuto questa esperienza così forte, ma sono stati entrambi molto forti, non si sono fatti coinvolgere dagli eventi, poteva andare peggio perché il loro intento era quello di portarmi in ospedale, di fatti chiamarono l'ambulanza e successivamente i carabinieri, per fortuna riuscimmo a evitare che arrivassero. Secondo loro fu mio marito a spingermi dalle scale, motivo della mia caduta. Grazie a Dio mi ripresi proprio quando sentì la parola ambulanza, di fatti a seguito di quella caduta la loro natura venne fuori, urlarono contro mio marito ed Enrica, parolacce e minacce e insulti. In seguito le invitarono ad andarsene di casa, provarono a mettere ancora zizzagna con Emma e Giorgia nei confronti nostri. Quella notte di fatti è stato molto difficile elaborare cosa realmente fosse accaduto per tutti, ci vorrà molta perseveranza nella preghiera e digiuno. Hanno lavorato molto bene sulla mia situazione familiare? Già precaria? Posso dire con assoluta certezza che stavano architettando da molto tempo questo, perché quasi farlo apposta sono arrivati in un periodo dove la nostra famiglia stava subendo diversi attacchi, su diversi fronti. Sicuramente il diavolo voleva distruggere me e di conseguenza tutto il resto, ma non ce l'ha fatta, Gesù ha vinto anche questa volta. Gloria a Dio! Speriamo di essere stati utili e che questa esperienza sia di esempio e apra gli occhi a molti di voi. La Radioblast e i loro insegnamenti con i loro corsi biblici, fatti con costanza, daranno forza e metteranno in guardia da questi falsi fratelli. Dobbiamo restare vigili e chiedere addio e discernimento. Vi chiediamo preghiera affinché ci sia redenzione per queste due sventurate sorelle che sono cadute mani e piedi nella trappola del nemico. Pregate anche per tutti noi, ne abbiamo tanto bisogno. Vi amiamo tanto cari fratelli e grazie per questa opportunità. Sicuramente attraverso la vostra diretta arriverà più persone possibili. Seguite tutti i Radioblast. Vi confermo e sottoscrivo che è l'unica Chiesa sana, vera e sincera, come le persone che ne fanno parte. Un abbraccio grande a tutti. Grazie a te, cara Veronica. Grazie veramente per condividere questa grande esperienza che hai fatto. Una grande lezione di vita, non solo per te, ma anche per noi sicuramente. A stare attenti, a aprire bene gli occhi prima di unirci a qualche gruppo cosiddetti cristiani. Dio ci aiuti ad avere discernimento. E leggo velocemente anche un messaggio arrivato adesso da parte di Luciano che dice Cari fratelli, sono Luciano. Anche io tra giugno e luglio dell'anno scorso, tramite Veronica, ho fatto parte del gruppo di preghiera di queste due false sorelle su WhatsApp. Ma quando mi sono accorto... Come tramite Veronica che lei... Si conoscono, Luciano e Veronica si conoscono. Ha detto tramite Veronica. Lei ha presentato questa donna a lui? Sì, sì. E anche lui ha fatto parte del gruppo WhatsApp. Ma quando mi sono accorto che erano fuori binario sui tempi della fine, ho inviato qualche vostro video a riguardo e così mi hanno espulso dal gruppo. Ma avevo intenzione di uscire lo stesso dal loro gruppo. Grazie Luciano, grazie. Dio ti benedica. Guarda, uno dei... Aspetta che prendo una scrittura qua. Sì? Primo Giovanni 1.10, me lo leggi? Sì, certo. Primo Giovanni? Sì, sì. 9 e 10. Primo Giovanni 1, 9 e 10. 10 e anche 11 va. Primo Giovanni 1, non c'è 11. Secondo Giovanni, scusa. Ah, secondo. Secondo Giovanni 1, 9, 10 e 11. Abbi pazienza, questo poveraccio ogni tanto prenderò una apertura. No, no. Chi va oltre e non rimane nella dottrina di Cristo non ha Dio. Chi rimane nella dottrina ha il padre e il figlio. Se qualcuno viene a voi e non reca questa dottrina, non ricevetelo in casa e non salutatelo. Chi lo saluta partecipa alle sue opere malvagie. Secondo Giovanni 1, da 9 a 11. Quindi, come sapete voi, noi non siamo una chiesa tradizionale la domenica mattina. Per questo è che i fratelli arrivano a Sud America e non c'è un posto dove venire a riposarsi, sedessi sulla panca, pregare i rosari domenica. No, non c'è. Imboscarsi nel gruppo e fare niente mattina o la sera. No. Tu quando vai in un posto che sia Polo Nord, Polo Sud, Cina o Sud America, devi essere autosufficiente. Non c'è un edificio religioso per sedersi a scaldare panche e far finta di far parte della chiesa. Non puoi far parte della nostra chiesa se tu non sei autosufficiente, se non vai a lavorare, se non sostiene la tua famiglia. Noi possiamo sostenervi con la parola, con gli insegnamenti, tutto quanto come già facciamo. Però non vogliamo lazzaroni che non vogliono sostenere la moglie, anche le moglie che non vogliono fare i loro doveri, eccetera. Va bene, quindi questo per dire che la nostra dottrina è quella del Vangelo. Chi non vuole lavorare, non deve mangiare. E poi tante altre dottrine. Per esempio, queste donne dicono che loro sono la discendenza carnale di Cristo. Sì, dicono che... Dice quella, la leader, la Cappa, dice è l'unica discendente di Gesù il quale sostiene non sia nato dallo Spirito Santo, ma sia proprio figlio di Maria e Giuseppe. Sì, infatti questi vanno in giro a predicare il Codice da Vinci, no? Ah, quelli lì. Il Codice da Vinci è un film satanico che insegna che cose che Gesù, come Maria Maddalena, hanno fatto, cioè rapporti sessuali, eccetera. Cioè, è il Vangelo del Diavo, insomma. È un giro per Semino, Zizzania e Veronica e Stefano. Sono stati in contatto con questa gente per otto mesi, no? Otto mesi e non però di persona, no? Hanno contratto su internet e dopo questi sono presentati dopo otto mesi a casa loro? Sì, più o meno, non so se sono otto mesi o più o di meno, non lo so. Diciamo otto mesi. Comunque, sì, vabbè, comunque non ha importanza. Ecco, cioè uno dei pilastri fondamentali della nostra, per far parte della nostra fratellanza, non è che uno clicca su internet un video di un fratello. Beh, un fratello in senso generale, come questo è un testimone di Geo, un mormone, un cattolico, un protestante. Siamo tutti fratelli che crediamo in Cristo o almeno uno che fa finta di credere in Cristo. Vabbè, insomma, è nel dubbio un fratello. Però il fatto che clicchi un video non ti rende fratello. Il fratello è uno che fa parte della fratellanza di questa. Cioè un fratello pentecostale o cattolico che sostiene la sua chiesa. Non fa parte della nostra fratellanza, fa parte della fratellanza cattolica. Certo. Sempre nel corpo di Cristo si è credente, è vero. Certo, sì, sì. Però non fa parte. Capite? Io non faccio parte della fratellanza dei calvinisti. Perché? Perché qual è una denominazione che io non faccio parte. Sì. Ah, non sono fratelli. Sono fratelli, ma non sono parte della mia fratellanza. Va bene, quindi nessuno deve dire che frate Giuseppe fa parte della fratellanza o della chiesa cattolica o protestante o mormone. Non faccio parte della loro fratellanza o chiesa se preferisci. È la stessa cosa. E così abbiamo più di, cos'è, 10-12 milioni di persone che ci hanno seguito su internet. Ci hanno visionato i nostri video. Sì, 16. Quanto? 16-17 milioni. Sì, sono ciclo. Non mi ricordo più. Sono 16 milioni di persone che ci hanno visionato su internet. Ma non è che abbiamo tutti questi milioni di fratelli. No. No, perché non hanno scelto di far parte della fratellanza. E magari se lo dici che loro sono nostri fratelli, se anche offendo, le dicono no, no, io sono pentecostale, io sono mormone. Come ti permetti, io sono cattolico, non faccio parte. Non ho mai. Infatti, se tu vedi su internet c'è gente che mi sgrida. Come tu non credi alla Madonna? Tu qua, tu là. Con quale diritto tu? Insomma, insomma, c'è gente che mi crede. Però per parte della nostra fratellanza ci sono tre regole. E sono sulla prima pagina della radio. Uno è evangelizzazione, poi c'è l'unità e poi c'è sostenere. Questi sono i fratelli che aiutano con le decime. Quindi se tu non fai parte della... Se tu non sei unito a noi dottrinalmente, non fai parte di noi. Noi, per esempio, la nostra dottrina è che tutte le dottrine cristiane, tutte le regole del catechismo, tutto, 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 tutte le dottrine cattoliche e protestanti che sono bibliche, sono tutte riunite nel Vangelo. E non vogliamo credere ad altro. Infallibilità del Papa, il seguire Martín Lutero, ma Dio lo benedica, ha fatto tante cose belle, ma non lo seguiamo a lui. La Madonna, ma vai a Medjugorje? Io no, perché non credo che quella di Medjugorje sia la vera Maria della Bibbia. Insomma, ognuno ha la sua idiosincrasia, va bene? Ecco, quando diciamo se non fate parte della nostra dottrina non siete la nostra fratellanza. Per nostra dottrina, cosa intendiamo, Angela? Tutto quello che è nella Bibbia. Sì, specificamente il Vangelo. D'accordo? Ecco, quindi se uno si presenta, due donne si presentano, uno che assomiglia a un gatto, l'altro che assomiglia alla volpe, col naso lungo di mezzo metro, che si presenta. Noi facciamo parte, noi siamo fratelli. Cioè, voi dovreste capire, prima di riceverli in casa, va bene? Leggi di nuovo, secondo Giovanni 1,10. Se qualcuno viene a voi e non recca questa dottrina, non ricevetelo in casa e non salutatelo. Secondo Giovanni 1,10. Saluto vuol dire pace, shalom, oppure noi diciamo Dio ti benedica, come preferisci. Saluto non è buongiorno, buonasera. Il saluto biblico era shalom, pace. Il nostro saluto è Dio ti benedica. Non puoi benedire uno che è un gatto e una volpe. Va bene. Quindi se non viene con questa dottrina, quale dottrina? Lo devo ripetere? Quella del Vangelo. Non la cattolica o la protestante. No! La dottrina protestante è completamente errata su alcuni punti. Quali? Non ricevono i cattolici. E per me sono nello sbaglio questi fratelli protestanti. Completamente nell'errore. I cattolici è lo stesso, viceversa. Va bene. Noi non ci crediamo a queste dottrine. Gesù riceve tutto. Non gli interessa niente se sei cattolico o protestante. Ami il Signore. È il tuo Dio. È il tuo Salvatore. L'unico. E allora sei fratello. Che mi interessa? Ma se sei cattolico o protestante, ognuno ha le sue disgrazie. Va bene? Ognuno ha il suo settarismo. Se gli lavi il cervello a un bambino alla maniera islamica, quando è grande, al 99,999, sarà islamico. Quindi c'è il lavaggio del cervello protestante e cattolico. A me non mi interessa questo. Sì. D'accordo? E allora, se uno viene a casa vostra senza questa dottrina, cioè Gesù più Gesù più nient'altro, se non viene così, allora la dottrina è sbagliata. Il leader non è un profeta, la donna, la figlia, carnale di Cristo, più precisamente del diavolo. Capito? La dottrina è Cristo. E poi dormire a casa. non dovete ricevere a casa, dice. Capito? Però è sempre così per quello che ha dei bambini, come faccio? E lui gli paghi la pensione. Qui vengono, a volte noi, capito? Vengono fratelli, ma no, niente. Se non hanno soldi gli paghiamo la pensione. Una sera, due sere, o quello che possiamo. A casa no. Abbiamo avuto brutte sorprese. Abbiamo avuto anche gente che ci hanno rubato soldi, sono andati a dire che soldi, e virgolette cristiani, eccetera, eccetera. Dimmi. Quindi solo questa scrittura di Primo Giovanni 1,10 è sufficiente e risolve il problema perché non si presentano con la dottrina del Vangelo. Infatti queste due donne dicevano che Gesù non è figlio di Dio, è figlio di Giuseppe e Maria. E questo già è sufficiente per non riceverli in casa. Più altre dottrine sul rapimento, che lei è l'unica profeta vivente, che lei, che gli animali si inchinano a lei, la nuova regina in Cristo, che lei è la donna che fugge nel deserto, che lei darà nascita a questo bambino che sarà il messia degli ebrei e lo concepirà con un massone. È incredibile. Noi non stiamo predicando contro queste due donne, stiamo rispondendo a questa lettera di Veronica. Sì, però stiamo dimostrando che non sono scritturali. Noi non ne conosciamo queste due donne, però in base a quello, il rapporto di Veronica e l'altro fratello, come si chiama? Luciano. E Luciano e dalle loro testimonianze questi qui sono falsi profeti, logici. Quindi noi possiamo giudicare in base a quello che dicono, quello che i fratelli ci dicono e vi crediamo. Però non è giudizionoso, noi giudichiamo il vostro rapporto, d'accordo? Sì. E allora, una cosa che Veronica ha detto è che ha sentito una nausea, sentiva come vomitare. Il Signore gli stava dando, ti stava dando, Veronica, ti stava dando un avvertimento. Quello che ha sentito, la nausea veniva dallo Spirito Santo, che lo Spirito Santo era nauseato dallo Spirito rivoltante di queste false profetesse, che se sono così come tu dici, e questi qui sono, diciamo, indemoniate, posseduti. Questi non sanno che Gesù, neanche col telescopio, neanche con il canucchiale. Beh, in effetti il Codice dei Vinci dice proprio quello, che Gesù ha avuto rapporti, carnaio. Io non l'ho seguito perché le cose sataniche non le seguono, quindi potrò sbagliare qualche virgola, mi potrete correggere. Comunque, il Codice dei Vinci, da quello che ho capito io, è una cosa satanica. Sì, sì, sì. Infatti, il frutto di queste donne era che volevano distruggere il matrimonio di Veronica. Comunque, esatto, Veronica, lo sbaglio che ha fatto Veronica è che, otto mesi prima che arrivassero a bussare alla porta, lei non ha condiviso con i fratelli, in questo caso compreso noi, va bene, cominciare con noi che siamo gli anziani della Chiesa qua, condiviso quello che, non dico, non dico il diavolo, ma qualcuno strano stava facendo. Scrive, dire, fratelli, Deborah, Angela o fratello Giuseppe, ma secondo voi sono da Dio queste? Io ti avrei risposto, avrei investigato, avrei fatto magari un po' di domande e poi ti avrei detto quello che sento dal Signore in base alle scritture. Sì, sì. in questi otto mesi che tu l'hai sentito per internet, ti avranno condiviso, ti avranno raccontato qualche dottrina e in base a questa dottrina tu devi consigliarti. Ognuno deve fare con la sua Chiesa, ma anche i fratelli protestanti, i cattolici devono fare con le loro Chiese e quelli che fanno parte della nostra Chiesa, della nostra fratellanza, devono consigliarsi con noi e noi daremo i nostri consigli e poi voi fate quello che volete, ovviamente. Certo, sì. Io più che consigliare non posso fare. Sì. Va bene? Giusto. Cos'è che dice il rapimento comincia con i bambini e avverrà gradualmente nelle altre persone? Sì. E queste sono cretinate. Queste sono cretinate inventate da alcuni fratelli evangelici perché qualcuno si lamenta e allora io si sono rapito il mio povero bambino. Ah, tranquilla, subito inventiamo una teoria che i bambini vengono rapiti prima. Ecco, non c'è scritto da nessuna parte questo qua. Cioè, dovete imparare il segreto che espone qualunque falso profeta. Qual è? Angela, stavo dicendo a Jasmin ieri nella casa, non so se ti ricordi. C'è un modo per scoprire ogni falso insegnamento, un modo molto semplice. E non dovete dimenticarlo. Le scritture. Le scritture. Hai detto... Dovete fargli una domanda dove è scritto ah, io sono la figlia di Gesù nella carne. Applausi per cortesia che qui c'è la figlia carnale di Gesù. C'è qualche scrittura su questo? No, ma me l'ha detto Dio. Tu prendi il tuo Dio tra virgolette e vai a pedalare. Quel Dio lì tra virgolette non ci crediamo. Noi crediamo in un libro che si chiama Libro della verità, Libro dello Spirito Santo, nonché la Bibbia, il Vangelo. È l'unica dottrina che abbiamo. Ogni Chiesa ha il suo libro polveroso con ragnatele della dottrina della Santissima Blabla Chiesa, se lo tengano. Un libro, libri dottrinali che vanno aggiornati periodicamente perché ci sono un sacco di frottole, libri dottrinali cristiani. E non ci credo, io c'è un libro dottrinale che non va mai aggiornato, profetico, non ha mai fallito. Si chiama la Bibbia, precisamente e centralmente il Vangelo. C'è. Queste qui non possono essere profetesse perché nel mondo oggi di profeta ce n'è solo uno. C'è un profeta. Va bene? E si chiama lo Spirito Santo. Si chiama Gesù Cristo che in Atti 2 dal 17 al 19 dice verserò mio spirito i miei figli, le mie figlie, i servi e le serve ad essi profetizzeranno. Quindi non c'è più anche nel Nuovo Testamento questi imbroglioni che si farsi profeti non capiscono questo. Compreso la gente che va in giro con il cartellino attaccato alla camicia. Profeta picco pallino. Nel Nuovo Testamento non c'era il profeta come Elia, come Mosè, come Ezechiel. Non c'era. Perché? Non c'era Paolo. Paolo era un profeta ma non era il. Pietro era un profeta ma non era il profeta. Il profeta è lo Spirito Santo. Sì. E cerchiamo di far entrare nella zucca protestante cattolica. Tu non sei il profeta sei un profeta sì un profetino come me come chiunque ma a volte con troppo poco profitto però profeta. Sì perché in Atti 2.17 il Signore dice spaggerò il mio spirito sui miei figli e le figlie al plurale non solo un profeta in tutto il mondo ma al plurale. Sì ma io dice sempre profezie di Gesù anche stamattina ne ho dato una ma di perfetto qui c'è solo Dio poi naturalmente c'è il Papa che fa liberi dice lui ma sì io dice una profezie ma le profezie devono passare attraverso la mia zucca carnale qualche cosa può uscire anche di sbagliato. Va bene infatti dico sempre quando profetizzo i fratelli della Chiesa giudicano mi correggono c'è una cosa che ho capito male. anche prima di metterlo alla radio sempre chiedi ai fratelli qui di leggerlo e giudicarlo una cosa voglio dire ieri dicevi a Jasmine perché Jasmine aveva domande su questo chi sono i profeti falsi veri dicevi a lei che se uno viene e ti dice prima ci sarà un rapimento per bambini poi un rapimento per anziani poi uno per malati e così via e quando le zie i cugini i nipoti i vicini di casa no suona bene prima per i bambini però hai detto così tu non devi prendere il tuo tempo per dimostrare che questo è sbagliato tu devi chiedere a loro di dimostrare che quello che dicono è vero tu non hai l'onere il dovere di dimostrare una bugia falsa sono loro che sanno l'onere di dimostrare che sia vero dice io sono la figlia di Gesù nella carne perché Gesù è andato a letto con Maria Maddalena ha detto il diavolo tu non devi dimostrare che Gesù non è andato non c'è scritto nella Bibbia che Gesù non è andato sono loro che devono dimostrarlo d'accordo? allora cioè lei dice che lei è l'unico profeta vivente sì perché sente il Signore parlare a suo orecchio sì però secondo Corinzi secondo Corinzi 11 14 dice che il diavolo si attraveste di angelo di luce dimostrami com'è che Gesù ti palla l'orecchio non puoi e io ti dimostro che il diavolo fa così a volte quindi questo qui secondo me è uno di quegli spiriti lei così è l'unico discendente di Gesù il quale il quale Gesù Gesù sostiene di non essere nato dallo Spirito Santo ma che sia nato proprio da Maria da Giuseppe ma insomma qui stiamo parlando con degli indemoniati io non devo dimostrare che Gesù non è figlio di Giuseppe marito di Maria non devo dimostrare loro devono dimostrare queste cretinate complete infatti c'è una scrittura che dice ogni spirito che non riconosce Gesù figlio di Dio non è da Dio Cristo venuto nella carne Cristo è il Messia sì va bene quindi e poi anche nel Vecchio Testamento Isaia ti posso dare le scritture che sarai chiamato figlio dell'Altissimo quando dici figlio di Dio già hai detto non è figlio di Giuseppe se è chiamato figlio di Dio non può essere figlio di Giuseppe e poi dice come lui dice Veronica anche lei aveva il potere di cambiare il tempo calmare le tempeste comandare gli animali al suo passaggio e si inchinavano alla scusate le risate alla nuova regina in Cristo quindi non c'è più solo la Madonna che crede essere la regina la falsa Madonna chiedo scusa perché c'è la Madonna c'è la Madonna con la vera Gesù la falsa Madonna dice sono la regina ma la regina del cielo mia cara signora a Medjugorje in Geremia la regina del cielo è un demone scritto è una una dea demone che adoravano in tempo di Geremia quindi la donna che fugge nel deserto non si riferirebbe alla sposa di Cristo ma a lei tutto lei mi ricordo quella di Medjugorje che tutto lei lei è la madre la sposa la intercessora la corredentrice la fruttivendola la gelataia lei è tutto quanto praticamente Dio e Gesù sono disoccupati ma anche Gesù non veniva c'era la Madonna di Medjugorje insomma non si riferisce alla donna che fugge nel deserto sto parlando di Apocalisse 12-14 la donna che abbiamo visto nel corso biblico che è la sposa di Cristo non è la sposa di Cristo ma è lei è lei e che il bambino che cita in Apocalisse la porterà lei tutto lei lei partorirà l'Emmanuele che gli ebrei aspettano e lo concepirà con un massone c'è un figlio del diavolo come mai andrà a letto con un massone questa se lei è figlia di Dio cioè quindi io non devo dimostrare che queste qui sono bugie al 100% è lei che deve dimostrare che è la verità con la Bibbia possiamo dimostrare tutto quello che predichiamo e se io se frate Giuseppe avessero mai predicato una cosa che non è scritturale pregasi in cambio di vi offro da bere pregasi di farmelo notare inviare scritture grazie prego e io rettifico e chiederò scusa ogni volta che ho sbagliato ho chiesto scusa che io io anche sbaglio è piacere della conoscenza non so voi e poi cosa dice ancora insomma più o meno ci siamo con le frottole no? sì cos'è che dice continuarono queste due donne gatto e la volpe i nomi ci sono gatto e la volpe continuare la loro opera di distruzione della nostra famiglia dice Veronica screditando pesantemente Stefano traditore verso di me corruttore massone io non lo sapevo che roba da mati e cercando di convincermi che per il mio bene come sono altruiste e dei miei figli avrei dovuto abbandonarlo vedi come opera il diavolo io raramente ho visto il diavolo operare così apertamente in base al rapporto che lei sta facendo questa lettera cioè il diavolo uno dei significati della parola diavolo vuol dire divisione perché si è diviso da Dio sì quindi arrivare lì separarlo dal marito accusarlo di ogni peccato sotto il cielo e che lei doveva abbandonarlo abbandonare anche i figli e quindi unirsi e l'ultimo ha solo tre anni il bambino Angelo ha solo tre anni abbandonare tutti la seconda donna ha forti problemi di stima personale dichiaratamente lesbica l'ha confessata nell'ultimo incontro quindi volevano fare un trio capito con una terza donna cioè qui cara Veronica tu devi pregare di giornare perché cerca di crescere nella fede crescere nella nella saggezza perché come fai ad entrare in casa gente così che la prima cosa che fanno vuole dividere il tuo marito dai tuoi figli e unirsi unirsi al loro gruppo satanico lesbico anticristo eccetera come fai prega per discernimento tutte e due Veronica e Stefano ve lo dico per il posto bene che cioè non tutti nella chiesa hanno il dono di discernimento di saggezza così però dovresti almeno andare dagli anziani e chiedere consiglio che nella chiesa non tutti sono profeti parlano in lingue però c'è un pastore c'è un anziano in questo caso sono io tu dovevi fare condividere queste cose io ti avrei dato delle scritture e poi tu facevi quello che volevi io non ho il potere l'autorità di dite cosa devi fare no però c'ho il dovere di dite cosa dice la parola quindi voi dovevate al più presto certamente prima di riceverli in casa va bene non lo sapevi questo te lo dico adesso lo dico voglio dirlo ai 420 che non ci sia qualche altro fratello che fa una pistolata così uno sbaglio così di ricevere in casa due posseduti ma non lo sai che vanno a spargere spiriti dappertutto nella casa e glielo abbiamo detto di ungere la casa ogni porta ha chiesto lei ha chiesto lei come fare la liberazione della casa e le abbiamo si abbiamo detto ungere ogni porta ogni finestra la porta d'ingresso il cancello d'ingresso vai fuori strada cammina intorno al blocco l'isolato di qua i diavoli non passano nessuno suonerà questo campanello che sia posseduto del diavolo e se qualcuno suona il signore mi darà discernimento casa mia non entrano i diavoli va bene hai fatto uno sbaglio grosso veronica il diavolo si è avvicinato così tanto che quasi è separato da stefano che abbiamo fatto skype con loro sono molto dolci tutti e due va bene però siete diciamo bambini spirituali va bene e sono sicuro che ce ne sono altri fratelli nella nostra chiesa alle stesse condizioni cioè io io vi conosco e dalla vostra apparenza da come parlate e da come tutto siete persone intellettualmente siete alto siete intelligenti sapete parlare bene e siete molto intelligenti però spiritualmente vi serve un pastore vi serve una chiesa come a tutti come a tutti cioè le pecore le pecore sono gli animali più stupidi che ci sono è noto che quando una pecora casca in un fosso tutti lo seguono spiritualmente è lo stesso infatti tu vedi la stragrande maggioranza delle pecore protestanti e cattoliche sono tutte a gironzolare intorno non sanno dove vanno sì 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 ognuno con la sua denominazione è una cosa molto seria e non importa in quale chiesa decidi di appartenere il pastore è la tua protezione perché lui è l'unto di Dio che ti guida quindi è la tua protezione il pastore non porta il bastone per niente è per contro il diavolo e per sculacciare le pecorelle come se mi dai il permesso Veronica voglio sculacciare un po' te e anche un po' Stefano come avete fatto voi andare avanti così mesi e mesi avere contattato questi in internet e poi li ricevete a casa voi dovevate consigliarvi per questo che c'è la chiesa stiamo entrando nel tempo della fine viene l'anticristo viene il marchio della bestia non potete sopravvivere né voi e né nessuno in giro e neanche io nessuno se non stiamo in stretto contatto io qui nella casa c'è i miei doni i miei doni di guida ma qui ci sono fratelli intorno a me Angela mia moglie che c'hanno doni che io non ho va bene sì potrei forse sopravvivere da solo non so quanto perché sono vecchiotta è comodo avere un focolare adesso c'è Deborah di là che si prende cura del cibo stufe che siano calde tutto e io diciamo così io faccio la mia parte c'è i miei doni loro dicono loro doni perché il Signore non ha dato a frate Giuseppe o a te o a un altro tutti i doni perché lo ha fatto apposta apposta e così che possiamo amarci l'un l'altro così che abbiamo bisogno uno dell'altro così che uno da solo non ce la fa persino Dio non vive nell'isolamento totale Dio gioisce alla presenza dei suoi angeli di suo figlio Cristo del suo spirito santo e di tutti gli angeli Dio gioisce nella presenza infatti Dio ci ama sì d'accordo ma se tu non ricambi quell'amore Dio se ne accorge capite Dio va da mia moglie mia moglie sì mi devi amare pronto io ti amo qua pronto mi ama e però io sono lì morto stramorto come una statua una statua così una statua e lei mi dice c'è qualcosa che non va con la tua zucca non ti funziona il cervello e perché io voglio essere amato e va bene ma tu sei lì mi sembra un paralizzato capisce Dio non è così Dio non è che ti ama no è un dare ricambiare datevi sarà dato amate sarete amati va bene quindi hai bisogno di abbiamo bisogno uno dall'altro tu hai bisogno della chiesa io ho bisogno della chiesa per corrella ho bisogno della chiesa io ho bisogno dei fratelli perché se no mi sento un citrullo in un deserto hai visto un citrullo in un deserto non chiedere cos'è un citrullo cosa è un citrullo non lo so come non lo sai non lo so si dice così io vado in google per guardare cos'è un citrullo il citrullo doppia L devi scrivere bene allora guarda andiamo io andiamo alle scritture gloria a Dio persona cui manca senno nel comportamento o anche nella sola apparenza si ma cos'è in inglese non esiste cos'è so cos'è una cocuzza so cos'è un cocomero no ok andiamo avanti allora in inglese non esiste la parola non in inglese in italiano deve andare ti dirai un carciofo ti dirai una barbapietola va bene andiamo avanti per cortesia poi tu farai i tuoi studi danteschi allora mi dai una scrittura si primo pietro 5 8 9 primo pietro 5 8 siate sobri vegliate il vostro avversario il diavolo va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare e a volte si veste anche da gatta una volta resisteteli stando fermi nella fede sapendo che le medesime sofferenze affliggono i vostri fratelli sparsi per il mondo capito quindi sta dicendo qua primo pietro 5 8 e 9 che anche i fratelli sparsi per il mondo queste due questo gatto e le volpe andranno a cercarli vanno in missioni segrete dovrai a cercare soldi che in missioni segrete vuoi che facciano questi qua l'ha chiesto anche la povera Veronica e Stefano che già non è che gli avanzava primo Giovanni 4 1 e 2 carissimi non crediate a ogni spirito ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio vedi che questa Veronica non l'ha fatta non ha provato gli spiriti ha creduto maledetto l'uomo che confida nell'uomo neanche me bisogna confidare seguite me ma ma virgola Angela come io seguo Cristo come ha detto Paolo nessuno deve seguire frate Giuseppe perché lui è bla bla no no come seguo Cristo quando tu segui una macchina prima di sorpassarla cosa devi fare Angela e guardare in the mirror guardare lo specchio retro virgola e poi e poi anche davanti davanti di cosa della macchina che vuoi soprapassare la macchina davanti della macchina davanti hai capito quindi devi guardare davanti frate Giuseppe a volte adesso si vive per fede perché è logico che la guida ti guida dove tu non sai dove però però per esperienza sai che questa guida ti ha sempre guidata bene o ti ha sempre guidato male quindi segui frate Giuseppe segui il pastore protestante cattolico segui però devi guardare dove accidenti sta andando questo qua dov'è che mi guida a una fossa benedetta no non ci sono fosse benedette Matteo 24 24 aspetta non ho letto ancora primo Giovanni 4 1 e 2 ma tu sei indietro carissimi non crediate a ogni spirito ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio capito provare Veronica tutti quanti quando dico Veronica dico tutti perché adesso Veronica Dio la benedica è un'onesta e Stefano però ci sono fratelli lense che non dicono niente perché molti falsi profeti sono sorti nel mondo da questo conoscete lo spirito di Dio ogni spirito il quale riconosce pubblicamente che Gesù Cristo è venuto nella carne e da Dio primo Giovanni 4 1 e 2 quindi il Signore il Signore dice qua interpretiamo un attimo come si fa a riconoscere pubblicamente che Gesù è Cristo qualunque diavolo dirà di sì Meggiugorio la fasta madonna di Meggiugorio dice di credere in Gesù sì e allora e allora bisogna queste due donne se fossero state di Dio avrebbero camminato in base alla parola di Cristo riconoscere Cristo pubblicamente citando la parola seguendo la parola mostrando che seguivano la parola che non hanno fatto quindi non hanno riconosciuto pubblicamente Gesù d'accordo? sì che è venuto nella carne e non la carne di non la carne di Giuseppe perché se era la carne di Giuseppe allora non c'era niente da avere la fede che Cristo è venuto nella carne ma scusa tutti i padri hanno figli carnali quindi le bugie Matteo 24 24 perché? perché sorgeranno falsi Cristi e falsi profeti e false profetesse e faranno grandi segni e prodigi da sedure se fosse possibile anche gli eletti Matteo 24 24 solo un modo di sedure gli eletti è solamente se un falso Cristo o un falso Cristiano viene nel nome di Cristo c'è solo modo di ingannare se fosse possibile anche gli eletti andare su un pulpito cattolico protestante e cominciare a blabberare virgolette per la gloria di Cristo guarda ha citato le scritture del Vangelo forza ragazzi applausi e rivieni falso profeta ti cito una scrittura due tre e poi ci costruisce una torre di balle di bugie una torre di Pisa di Pistoia una torre di Babele sì però leggeva la Bibbia ma sì che leggeva la Bibbia ma anche farisei leggevano la Bibbia il modo di insegnare la Bibbia non è leggi due tre quattro cinque sei sette scritture un capitolo e poi insegni quello che ti pare ma è di insegnare da scrittura in scrittura in scrittura in scrittura in scrittura questi attaccano con le scritture e finiscono con le bugie invece il vero profeta attacca con le scritture e finisce continua con le scritture insegna dentro le scritture e finisce basato sulle scritture dentro le scritture e non fuori delle scritture e questo è il vero profeta ci siamo e Dio mi aiuti a essere uno di questi nel nome di Gesù Cristo Amen colore di Dio Alleluia 2 Corinthians 11 13 a 15 Quei tali sono falsi apostoli operai fraudolenti che si vestono si travestono da apostoli di Cristo ma sono invece un gatto e una volpe non c'è da meravigliarsene perché anche Satana si traveste da angelo di luce com'è che si veste Satana da angelo di luce quindi da Međugoria la Madonna dell'albero la Madonna del ponte la Madonna dell'arcobaleno e la Madonna come ti appare a te si travestono ma che tu non credi alla madre di Gesù ma che che sciocchezza sono queste credo a quella madre di Gesù nella Bibbia sia dove si crede ad ogni Cristo che appare ogni 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 falso Cristo ogni falsa Madonna ma certo che credi in Cristo adesso appare un Cristo a Međugoria io non ci credo ah tu non credi in Cristo ma non credo a quel Cristo perché quello lì è un diavolo è un falso Cristo un falso profeta avanti 15 non è dunque cosa eccezionale se anche i suoi servitori si travestono da servitori di giustizia la loro fine sarà secondo le loro opere secondo Corinzi 11 13 a 15 guarda io più che pregare per Veronica e Stefano io pregherei per queste due donne perché le aspetta un'eternità raccapricciante guarda quando passeranno all'altro mondo andranno in un posto che si chiama Hades e troveranno altri indiavolati morti prima di loro poveri poveracci e stavo dicendo ad Angela prima mio cuore è spezzato per i bambini questi qui hanno messo due bambini però io ho fede in Dio io conosco Dio io so che Dio si prenderà il culo di questi bambini e gli darà un sacco di mazzolate a queste false profetesse che si pentano come dice in Apocalisse capitolo 2 chiesa di Tiatiri che c'era anche lì c'era una donna che si chiamava Jezebel o Isabel come in italiano Jezebel Isabel Isabrutta cos'era la chiesa di Tiatiri Jezebel Jezebel in italiano inglese Jezebel 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 a volte scusate io faccio confusione con gli accenti abbiate pazienza con me però quindi cosa ha fatto con Jezebel Jezebel cosa ha fatto Gesù ha detto a Giovanni questa falsa profetessa che guida i miei figli a peccare dice gli ha dato tempo di pentirsi non si è pentita ha detto e allora la gettono un letto di dolore cioè deve pentirsi e i suoi figli li ucciderò con la spada caspita e il Papa dice ma Dio è amore li perdona tutti no signor Papa no signor Pachamamo no no perché sai certi 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 religiosi dell'Ave Maria 4 Ave Maria ciao continua a fare pedofilo per questo che ci sono tutti questi monsignori che sono pedofili da vent'anni 4 Ave Maria ciao io quando ero quando ero quando ero quando ero ragazzo 7-8 anni andavo a rubare meloni no e allora e allora io poi gli ho detto una volta mio fratello più grande di me preghiamo per la sua salvezza ancora e gli ho detto senti ma è peccato però rubare meloni fa no ma poi ci confessiamo non so se vuoi 10 anni mi viene che 10 anni 9 anni poi ci confessiamo ci confessiamo ah capito tutto a posto cioè questi questi preti pedofili no si perdona una vicenda io assolvo te se tu assolvi me quanti hai pedofilizzato stas settimana è così e tu ti perdono tu mi perdoni tutto a posto settimana prossima torniamo a farlo invece no caro mio il signore Isabel com'è Isabel Isabel signore poi leggi dove dice adesso la caccia su un letto di dolore i suoi figli è riusciti Apocalisse 2 20 ecco leggi direttamente ho questo contro di te che tu tolleri Isabel quella donna che si dice profetessa e insegna e induce i miei servi a commettere fornicazione e a mangiare carni sacrificate agli idoli questo qui è una bella applicazione a queste donne si dicono profetesse e poi gli spinge la fornicazione perché sono lesbiche e a lasciare il marito lasciare il marito perché sono lesbiche non gli serve il marito come sono furbe aspetta che io abbastone di Dio va bene tu Stefano per cortesia prendi sicura della moglie attenzione forza le ho dato tempo perché si ravedesse ma lei non vuol ravedersi della sua fornicazione ecco io la getto sopra un letto di dolore e metto in una grande tribolazione coloro che commettono adulterio con lei se non si ravvedono delle opere che ella compie Apocalisse 2 20 a 22 e i figli ammazzati devo che dice metterò anche a morte i suoi figli e tutte le chiese conosceranno che io sono colui che scruta le reni e i cuori e darò a ciascuno di voi secondo le sue opere verso 23 riferimento Apocalisse 2 da 20 a 23 grazie capito come funziona Dio altro che quattro eva maria della nonna quattro eva maria due rosari batti il petto quando tutti ti guardano che bel religioso no tutti attacchi al tran completamente se tu pensi di cavartela così ma che con Dio non si scherza Anania Saffira quando ha detto che volevamo dare i soldi alla chiesa poi glielo ha dato solo una metà lo spirito santo li ha uccisi sul colpo nessuno vuole la vostra immondizia finanziaria ma se la volete dare la date in modo onesto non venite qua a imbrogliare il signore d'accordo allora come uscire da questa situazione ed evitare questi problemi di essere ingannati da falsi profeti dicevi numero uno consigliati con il tuo pastore a qualunque chiesa appartieni ti consiglio con noi che siamo gli anziani se appartieni a un'altra chiesa che so io di Geova mormone ti devi consigliare con il tuo pastore mormone capisci ecco perché questo poi numero due dicevi come sicurezza di solito non ospitate nessuno se dovete proprio aiutare qualcuno pagate una pensione pagate una pensione se non puoi dargli quattro soldi per il cibo insomma non è che posso anche noi a volte ci chiedono diciamo che guarda posso solo dare 50 euro mi dispiace gli compriamo il cibo per qualche giorno insomma uno fa quello che può anche ai medicanti per le strade non è che posso dare una monetina così però a volte incontriamo famiglia con bambini allora gli diamo abbondante d'accordo e hai detto anche numero tre di liberare la casa ungere la casa per proteggerla da qualsiasi spirito rimasto lì c'è altro che possiamo fare per la nostra cleansing beh fare il corso biblico perché nella nostra chiesa abbiamo un corso biblico profetico di cinque mesi sì va bene c'è una scrittura di memorizzare che alcuni alcuni fratelli la prendono sotto gambe diciamo beh memorizzare troppa fatica più faccio vedere la televisione alla sera certo però non cresce così certo però quando vengono quando viene il diavolo per esempio quando sta dormendo di notte che vengono i sogni del diavolo anche sogni di tentazioni se tu non hai memorizzato la scrittura come fa il tuo cuore la tua anima il tuo spirito a reagire automaticamente con scritture io Deborah dice che io di notte parlo predico capito perché sono scritture che escono da sole va bene e la scrittura memorizzata è un po' come un missile automatico un missile antimissile per dare un'idea in questa era tecnologica capito si memorizza la scrittura automaticamente combatte il diavolo senza che tu lo sai andai a dormire e la scrittura funziona però la sera quando andai a dormire non andai a dormire pensando al telegiornale alla sera dormendo dico la parola pensa alla parola la parola la parola la parola non i media internet interdiavoli eccetera e la notte fai così poi le scritture memorizzate ti darà una bella notte ti svegli la mattina appena il cervello si mette in moto subito verso la carne devi dire al cervello sta tesito cervello alla parola mentre con le pantofole vai al bagno ascoltare la parola prima che arrivi al bagno il cervello è sintonizzato con la parola il cervello è una cosa è una cosa carnale la mente carnale quella che ti invita all'inferno allora quindi prima è consigliarti con i fratelli la tua chiesa se appartiene alla nostra chiesa consigliarti con noi noi siamo gli anziani qua stupi di quanto vuoi sempre gli anziani però uno due studia la diciamo la parola insegnata della tua chiesa parlo così perché c'è tanti internet che mi seguono che non fanno parte sono cristiani ma non fanno parte della nostra fratellanza che non vogliono li amiamo c'è nessun problema è tutto gratis cliccono e guardano vanno nella radio c'è un archivio con migliaia di insegnamenti è tutto gratis non vendiamo niente fratello amèn ecco quindi studia la parola per capirla per conoscerla così non starai ingannato così facilmente da ogni vento di dottrina dice Paolo che soffia devi riconoscere bene la parola memorizzare il corso biblico c'è una serie di scritture che non sono neanche troppe memorizza quella che puoi però ogni giorno se puoi memorizzare due scritture sono due al giorno non puoi una al giorno non puoi mezza al giorno non puoi una alla settimana ma tieni il cervello in action in azione utile attenzione alla pigrizia la pigrizia è il laboratorio del diavolo e allora queste sono le cose principali e quindi quindi cercare fratelli di tenetemi in contatto tu Veronica tu non potevi essere così distaccata da Stefano che queste streghe possano avvicinarsi così tanto di dirti separati da lui io lo conosco è una brava persona infatti le ha detto neanche ci ha pensato deve crescere nello spirito sì ma però è un dolce fratello sì quindi stai vicino a lui non a loro va bene se venissero fratelli ovunque siete se spuntassero non dico due donne ma due uomini un uomo e una donna una donna piangente con un bambino gli paghi una pensione perché viviamo in un'era che non sai mai come si traveste il diavolo va bene in base a due possibilità gli paghi una pensione altrimenti compagno un po' di cibo che dà un'offerta qui c'è un po' di soldi compagno del cibo e mi dispiace questo posso fare posso dormire in casa tua e qui non posso perché non dipende da me io non posso una volta io facevo autostop va bene ero dove che ero boh e ne ho dimenticato la città facevo autostop per andare di qua di là per risparmiare e si è fermato uno si è fermato uno e dice sì cosa bisogna di informazione e dice beh più che informazione mi serviva un passaggio sono missionario io la benedica ah molto molto volentieri però non la posso non posso ho detto guarda è qui vicino guarda proprio avanti e sai cosa mi ha detto questo qua mi ha detto una cosa che non mi sono mai dimenticato mi ha detto la macchina non è mia non sono autorizzato ho detto mi scusi è andato via e ho detto caspita che bella cosa intelligente capito e a volte infatti mi chiedono a me di fare cose con la nostra casa qui che secondo me non è giusto e gli rispondo guarda non dipende solo devo chiedere agli altri infatti la casa non è tua appartiene a un proprietario puoi dirlo liberamente ma la macchina ma se tu c'è una macchina anche forse pure il tuo nome ma siccome c'è un marito un fratello una sorella la macchina non è tua ma è vostra certo quindi dire ma guarda non è esattamente la mia macchina mi dispiace non è non è la mia casa anche se ha il nome tuo però lì c'è un marito una moglie un fratello quello che c'è puoi dire ma non posso disporre quindi un amico non ha bisogno di spiegazioni insistenze un nemico non sarà mai contento non sarà mai contento quindi quando una persona non gli sta bene una risposta educata devi stare attento c'è una trappola che è un amico infatti anche noi nella nostra chiesa riceviamo tanti messaggi i fratelli che ci aiutano ci sostengono non ci danno mai problemi è vero giusto i fratelli che non ci sostengono che non ci supportano che non fa parte veramente la fratellanza problemi tutti i giorni hanno tante richieste non faccio nomi sempre un problema dopo l'altro però invece i fratelli veri sostenitori i fratelli fanno parte della fratellanza solamente rose e fiori vorrei che scrivessero più spesso infatti neanche scrivono quelli ma dire ma tenetemi in contatto è un po' che non ci contattate e loro dicono sì 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 veramente non vogliono disturbare infatti dicono non vogliono disturbare sono dolce sì i fratelli ispiranti non disturbano mai giusto però ci sono a volte persone un po' pedanti un po' assistenti che ripetano la cosa dieci volte e ancora non sono convinti che vorrei che insomma scrivesse anche di meno eh allora non so io posso gli abbiamo già detto di ungere la casa con olio no? sì sì va bene e allora io penso che non ho dimenticato guarda legge primo corinzi 5 11 guarda e siamo in chiusura fratelli primo corinzi 5 11 11 ma quel che vi ho scritto è di non mischiarvi con chi chiamandosi fratello sia un fornicatore lesbica ti ricordi che sono lesbica un avaro un idolatra un avaro che prima cosa gli ha chiesto soldi un idolatra un idolatra che è tutto pieno di false dottrine un oltraggiatore un oltraggiatore che hanno oltraggiato Stefano che è lui che l'ha spinto giù dalle scale che non era vero un ubriacone sì ubriaco del pieno del diavolo un ladro un ladro che finanziariamente con quelli non dovete neppure mangiare primo corinzi 5 11 capito sì quindi ragazzi non è che per amore in Cristo mangiare no no niente affatto qui c'è offerta va al mercato ti compri quello che siamo chiamati ad amare tutti anche i nemici ma amare amare non vuol dire confidare che dice Gesù amai i nemici ma non è che confidi nei nemici maledetto l'uomo che confida nell'uomo come dice Giovanni 2 23 dice Gesù verso 25 infatti dice non aveva bisogno di testimonianza di nessuno di nessuno perché egli stesso conosceva quello che c'era nell'uomo Gesù non si fidava bene insomma abbiamo già parlato di questo in passato sì grazie Gesù quindi purtroppo purtroppo la nostra chiesa bene amata fratelli amati ma ci sono dei fratelli che sappiamo ascoltano con mezzo cuore e questi fratelli si troveranno negli stessi problemi nella fossa quindi fratelli che siete mezzo cuore pentitevi e chiedete al Signore e aprite il cuore e amate e cercate di essere a cuore pieno verso chi verso il Signore le scritture la parola e un pochino d'amore anche per i fratelli e anche consigliarvi un po' di più per questo che Dio ha la chiesa guarda Proverbi 19 c'è una scrittura lì stavo dicendo che Dio ha la chiesa io c'è i pastori c'è gli anziani e quindi dobbiamo camminare insieme in consiglio e c'è la Proverbi 19 a dare al 20 per cortesia Proverbi 19 20 Ascolta il consiglio e ricevi l'istruzione affinché tu diventi saggio per il resto della vita Proverbi 19 20 Guarda non c'è niente di peggio infatti non puoi fare la guerra Proverbi 20 18 dice non puoi fare la guerra Proverbi 20 18 20 18 I disegni sono resi stabili dal consiglio fai dunque la guerra con una saggia direzione Proverbi 20 18 Quindi non puoi fare la guerra nello spirito contro il diavolo se non ti consiglio quei fratelli Qual è il soldato sano di mente che va a fare una battaglia e dice però non mi consiglio col quartier generale c'è una radio qui e però non la uso perché io 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 sono io tu non sai così tu non sai che sono io ma io so che sono io non ho bisogno di chiamare la radio quartier generale ma io sono in gamba io conosco la Bibbia e consigliarmi che fratelli ma sciocchezze ma tu lo sai che sono io io sono quasi un profeta quasi intelligentissimo dice i disegni sono resi stabili dai consiglio fa dunque la guerra con una saggia direzione non puoi fare la guerra contro il diavolo senza consigliarli che fratelli due meglio di uno una corda tre capi non è facilmente rotta va bene noi qui siamo otto capi in questa chiesa in questa comunità e una corda otto capi è robusta già tre capi è buona però a condizione che siamo uniti attorno a Gesù Amen grazie Signore grazie Signore dimmi Angelo tante lezioni in questo messaggio si potrebbe ancora parlare però vedo che abbiamo già superato il nostro tempo voglio ringraziare Veronica perché io ho dato delle correzioni Veronica e Stefano perché anche questo è il mio lavoro ma lei anche prima ha scritto ha detto il Signore mi ha dato la scrittura di Ebrei 12 11 ogni correzione all'inizio non è piacevole però poi rende gioia a quello che lo riceve quindi lei già sapeva ha scritto lei già sapeva che sarà così e no dolce tesoro di Gesù io ti voglio bene ma l'amore è anche correzione scusa gloria a Dio no ma ha fatto un bel passo di fedele a raccontare tutte queste cose proprio per amore per le pecorelle così che altri non cadono in questa trappola quindi grazie Veronica per questo no no Dio ti benedica magari fossero tutti così che quando sbagliano comunicano il problema è che i fratelli sbagliano e dicono niente perché hanno paura di prendersi un rimprovero e così ci cascano di nuovo quindi grazie Veronica grazie Stefano posso signore possiamo pregare per loro certo il Signore benedica vostro matrimonio vostro unione vostro bambino nel nome di Gesù Cristo crescete forti fratelli crescete uniti tra di voi e nel Signore e questo vi proteggerà dai diavoli dalle false profetesse dalla falsa discendenza di Cristo Signore tu sai Gesù che ci sono imbroglioni falsi profeti molto molto più ingannevoli di due donne così dovrebbe essere abbastanza facile da scoprirle Signore allora nel nome di Gesù ti prego Signore aiuta i fratelli Signore a camminare nella parola controllare mettere alla prova gli spiriti per vedere chi cammina nello spirito in Cristo con la parola di Cristo nelle scritture e chi invece fa solo finta e dacci uno spirito di discernimento per discernere per non essere imbrogliati ingannati Signore grazie Signore nel nome di Gesù Cristo ti prego nel nome di Gesù Amen un abbraccio un bacio Stefano tua moglie Veronica e tuo marito Signore vi tenga uniti con il bambino siete una corda a tre capi chiudete la porta doppia mandata e tenetela chiusa e poi con le figlie cinque una corda a cinque capi e poi ci sono quelle grandi grazie Signore vi amiamo fratelli va bene allora fateci sapere e se per caso mi sono un po' arrabbiato scusatemi non è che non vi voglio bene al contrario al contrario perché non voglio che ci cascate più adesso siete più forti e più saggi gloria a Dio grazie Signore certi fratelli a volte non è che sono sono preoccupati di fare sbagli ma preoccupati di dirmelo anche dopo sai ci sono correzioni ma le le mie correzioni mi auguro spero che vi portino verso il Signore se a volte il Signore quando ci dà una scolacciata una scolacciata bang verso il Regno di Dio ci lancia nella direzione giusta non è un colpo come lo dà il diavolo per allontanarci questo è un colpo per avvicinarvi lo faccio con i miei figli gli dico ma lo capisci che è per il tuo bene questo lo capisci che è per avvicinarti al Signore grazie così ce n'è uno ammalato adesso con la tosse John è una malattia un po' strana che è tutto sorridente lì gioca sempre con il Lego è un po' un po' dubbiosa questa malattia no ma sta ancora tossendo però è migliorato molto molto migliorato in isolamento in una stanza però è il suo sorriso sgargiante come dentro è guarito è guarito è guarito bene gloria a Dio Angelina se non c'hai altri io no salutiamo i fratelli li abbracciamo e li baciamo grazie Giosetta i dolci amori di Gesù grazie a tutti